Per me il ciclismo rappresenta voglia di ricominciare. Ho scoperto anche da poco tempo che vado in bici dei posti meravigliosi della mia terra. Splendida, splendida per come la Sicilia. Il Giro d'Italia penso che in questo periodo è ancora più bello un augurio per ritornare alla normalità. La mia maglia rosa per me è Vincenzo Nibali una bandiera della Sicilia e dell'Italia proprio come il Giro e che racconta dell'energia del nostro paese la nostra capacità di affrontare le sfide il coraggio di andare sempre avanti. La mia energia sono i ragazzi della mia squadra un'energia guidata dal coraggio il coraggio di salire in sella anche a una certa età di affrontare le salite, i chilometri, la strada. Il ciclismo è il coraggio di mettersi in gioco in ogni pedalata. Il ciclismo è vita. Cari amici di Castrovillari mettetevi a ruota in bocca al lupo!